Musica Cari amici di Angoli, ben ritrovati a tutti voi, grazie per essere in mia compagnia anche questa sera, come faccio sempre a inizio appuntamento, vi ricordo la nostra mail, continuate a scrivere ad angolichiocciolaespansionetv.it per restare sempre in contatto con la redazione, continuate a farlo naturalmente anche durante tutta l'estate. Questa sera, come sempre, ospiti che ci racconteranno molto e molte cose interessanti, partiamo subito dal primo ospite, collegato con noi, eccolo, lo vedo in collegamento, e do il benvenuto al dottor Antonio Uda, medico veterinario. Antonio, innanzitutto, ben ritrovato. Grazie, grazie. So che sei tornato a casa tua, che sei in Sardegna in questo momento. Sì. Bene, quindi è stato piacevole ritornare a casa, questa domanda te la devo fare. Quella è assolutamente sì, sempre. Era da Natale che non tornavo, quindi... Senti, senti Antonio, allora, io approfitto del collegamento con te per affrontare uno degli argomenti che a inizio estate crea sempre, insomma, delle cifre spiacevoli, perché l'abbandono degli animali da affezione, purtroppo segna sempre un po' anche il periodo estivo. Quindi ci auguriamo che questo magari quest'anno non accada, però è anche vero che compatibilmente a questo periodo di emergenza, alle indicazioni comunque che si hanno ora, anche per andare in vacanza, io, insomma, ahimè, temo che forse questo appello valga ancora la pena di farlo. Che ne dici? Sì, sicuramente come ogni anno, la piaga degli abbandoni degli animali, parliamo di cani e gatti, è sempre un buon tasto dolente. Ci fu già tempo fa un problema legato sempre al Covid, purtroppo, di abbandono o comunque di trascuratezza dei nostri animali domestici, fondamentalmente. Si spera che le persone, almeno quest'anno, visto quello che è successo, siano un po' più attente a questa cosa. L'unico modo che si ha, fondamentalmente, per evitare gli abbandoni è che obbligare le persone in Lombardia, dal primo di gennaio del 2020, è obbligatorio anche per i gatti, di microchippare gli animali, perché attraverso il microchip è l'unico modo che abbiamo per salire dal proprietario. Quindi, purtroppo, è un po' un mal costume questo di abbandonare soprattutto i cani prima di partire in vacanza, anche perché si capisce che alcune volte è una spesa, e non è che si giustifica, e quindi il problema è tutto là, fondamentalmente. Però sembra che negli ultimi anni il trend degli abbandoni si sia ridotto notevolmente, quindi almeno questo è un dato positivo. Quindi grazie anche alle tante campagne, se ne parla moltissimo, e quindi facciamolo anche noi. L'ultima domanda che ti faccio su questo argomento, poi parliamo d'altro. Animali, appunto, abituati a stare in casa, cani e gatti, come hai citato tu, poi, una volta diventati randaggi, quante possibilità hanno di sopravvivere? Beh, parliamo, se parliamo dei gatti, il gatto è un animale che si adatta molto facilmente a vivere in ambienti esterni, anche perché si sposta molto più facilmente rispetto al cane. I cani, fondamentalmente, non hanno la capacità di cacciare, come fa il gatto, che può nutrirsi di piccoli mammiferi, topi, uccellini. I cani non hanno grosse possibilità di sopravvivenza, nel senso che poi diventano molto magri, purtroppo sono anche molto più soggetti a essere investiti, a spaventarsi più facilmente. Il gatto, da quel punto di vista là, risulta di per sé già un po' più selvatico rispetto al cane. Ma in ogni caso, insomma, non abbandoniamo nessuno, né cani né gatti, perché assolutamente non lo dobbiamo fare. Intanto vedo, forse c'è un problema di collegamento, vediamo se nel frattempo riusciamo a risistemarlo, a continuare la nostra chiacchierata con il dottor Antonio Uda, il nostro medico veterinario, che appunto questa sera ci aiuterà a comprendere quale può essere il comportamento per quest'estate 2020, perché l'inizio di anno, insomma, fino a poco tempo fa, è stato caratterizzato davvero da tantissimi problemi legati all'emergenza, una fase, insomma, che poi è andata, grazie al cielo, migliorando, e quindi ora possiamo anche iniziare a pensare alle nostre vacanze. Delle vacanze, però, che inevitabilmente ci devono anche portare a preoccuparci dei nostri animali d'affezione. Quindi, Antonio, ti vedo fortunatamente ricollegato. Senti, quindi, arriviamo al dunque. Se vogliamo portare i nostri animali d'affezione in vacanza con noi, considerato questo periodo di emergenza e le regole che ci sono, ci sono delle particolarità che dobbiamo tenere presente? Ma no, fondamentalmente non cambia rispetto agli anni scorsi i consigli che diamo noi ai proprietari per portare gli animali in vacanza. Partiamo dal presupposto che, secondo me, le vacanze brevi sono più da cane che da gatto. Nel senso, l'ideale sarebbe non portare i gatti per vacanze troppo brevi, perché il gatto è un animale che ha tempi più lunghi per ambientarsi, quindi vacanze brevi potrebbero comportare uno stress notevole per l'animale. Mentre per i cani si sa che ci si muove molto più facilmente con il cane. bisogna sempre contattare delle strutture e avere la certezza che ricevano gli animali, chiaramente, quindi non partire così un po' distratti da questo punto di vista. Ci sono degli accorgimenti che cambiano a seconda di nudo dove uno deve andare in vacanza, dalla montagna al mare, ad esempio. Se voi ci addentriamo un po' nelle precauzioni da prendere da questo punto di vista qua, dimmi tu, cosa vuoi dire? Sì, certo. Quindi se per ipotesi partiamo per il mare, quali sono le precauzioni? Invece se partiamo per la montagna, quali sono le cose che assolutamente non dobbiamo dimenticare con riferimento al cane che ci portiamo appresso, per esempio? Ok. Ok. Allora, innanzitutto bisogna essere attenti al viaggio per un discorso, per un fattore stressante. Se partiamo al mare si presuppone che ci siano temperature elevate perché al mare si va d'estate. Quindi bisogna essere attenti soprattutto con i cani a pelo lungo e alcune razze di cani i brachicefali soprattutto ai cosiddetti colpi di calore che sopraggiungono molto velocemente e sono molto pericolosi. Quindi il consiglio è quello di viaggiare nelle ore fresche della giornata, quello lo dovremmo fare in generale un po' per tutti anche per noi. Però per gli animali ha maggior ragione. fermarsi spesso che vale sia per il mare che per la montagna è il discorso di gestire l'animale durante il viaggio. Fermarsi spesso a fare delle pause per almeno albeferare l'animale e poi esistono anche perché bisogna dirlo perché spesso succede dei farmaci che si somministrano agli animali per evitare la cinetosi da viaggio quindi la nausea e altri farmaci che sono degli anestetici a piccole dosi che servono per tranquillizzare l'animale durante il viaggio perché il viaggio per l'animale è abbastanza stressante. Questo è per quanto riguarda la partenza in sé del viaggio. Poi chiaramente se ci si recca al mare ricordiamo che nelle zone costiere esiste una patologia che si chiama lesmaniosi quindi soprattutto nel cane esiste anche nel gatto però si fa riferimento sempre al cane per lesmaniosi principalmente. Ricordiamoci sempre di applicare o i collari o gli antiparassitari che contengono il repellente che allontana il pappataccio che trasmette la lesmaniosi che è una bruttissima malattia molto subdola difficile da curare addirittura non si guarisce mai molto presente nelle zone del sud Sardegna compresa perché c'è una concentrazione di cani tra virgolette anche randaggi superiore che fungono da serbatoio per questa patologia qua. E come ci accorgiamo che il nostro cane purtroppo ha contratto la lesmaniosi? Allora il consiglio è questo le linee guida dicono di fare il test per la lesmaniosi sei mesi dopo la potenziale esposizione all'agente patogeno e quindi al pappataccio che trasmette la lesmaniosi la sintomatologia la lesmaniosi essendo multiorgano è molto varia inizia principalmente l'obietà se ne accorge perché dà problemi cutanei quindi dà dermatiti cutanee in alcune regioni particolari che sono la maggior parte delle volte il muso gli occhi nonché le orecchie che sono i punti dove il pappataccio riesce più facilmente a pungere difficilmente una zanzara o un pappataccio riescono a pungere un cane a pelo lungo sul dorso che non arriverebbero neanche a toccare la cute quindi la sintomatologia è un po' subdola ecco quindi il proprietario porta l'animale dal veterinario e poi il veterinario non so se ha un po' di occhio clinico si rende conto se il cane è andato al mare se potenzialmente può avere contratto la patologia ecco quindi detto questo che è sicuramente un aspetto molto importante in considerazione invece delle regole che quest'estate insomma dovremo un po' tutti rispettare la sanificazione le distanze e quant'altro quindi se abbiamo un animale il nostro cane con noi e ci richiamo in spiaggia per esempio quindi dovremo per lui rispettare alcune attenzioni particolari lo stesso vale per la montagna oppure può essere un ambiente più libero ma in realtà per come hanno organizzato gli stabilimenti balneari le distanze che intercorrono tra le diverse persone sono quelle che fondamentalmente servono anche per distanziare l'animale dalle altre persone poi ne parliamo nella trasmissione la scorsa volta non c'è nessuna evidenza scientifica che il cane possa o meno trasmettere il covid quindi fondamentalmente le precazioni da prendere sono sempre le stesse la maggior parte delle strutture balneari che ospitano i cani hanno già dei distanziamenti che servono non per il problema del coronavirus ma per il discorso di una distanza che serve per allontanare un animale dall'altro quindi per cercare di farli interagire il meno possibile perché alcune volte si possono creare dei problemi se si incontrano due cani fondamentalmente quindi queste distanze ci sono già in realtà quindi certo abbiamo gli ultimi due minuti a disposizione quindi qual è il consiglio imprescindibile prima di partire per le vacanze ma anche una volta che si è ritornati nel senso una volta a casa magari è necessario accorgersi o valutare che appunto il cane abbia superato bene questo spostamento che come dici tu può essere anche un po' stressante e magari analizzarlo dal punto di vista della salute e capire se anche per lui la vacanza è stata positiva certo no per partire in vacanza se noi parliamo del territorio italiano l'unica cosa che serve è il consiglio che si dà a parte logicamente aver applicato i microcippi che è obbligatorio per legge di fare le normali profilassi antiparassitarie quindi sia per la filariosi che è principalmente presente in Piemura Padana sia per la lesmaniosi che è presente nelle zone costiere di base è questo quello che si fa ricordarsi sempre per chi va all'estero che è necessario il passaporto con la vaccinazione antirabica che alcune compagnie continuano a chiedere anche per recarsi in Sardegna è un po' è un po' sbagliato questo nel senso perché ai tempi si veniva in Sardegna con la vaccinazione perché non c'era mai stata l'Arabia in Sardegna quindi lo si faceva per preservare la regione dell'Arabia adesso è dal 2014 che l'Italia viene dichiarata zona indenne l'Arabia quindi non sarebbe neanche necessario quelle però alcune compagnie aeree come alcune compagnie di navigazione continuano a chiedere questa vaccinazione però è fondamentale assolutamente quando si va quando si viaggia soprattutto con mezzi e non solo con la macchina avere un certificato di buona salute nel cane passaporto e antirabia per evitare di avere poi problemi una volta arrivati a casa rientro ripeto il cane ne risente poco il gatto durante la vacanza potrebbe manifestare dei problemi tipo le cistiti da stress o problemi anche dermatologici sempre legati comunque allo stress del cambio di ambiente bene io saluto e ringrazio il dottor Antonio Uda per essere stato con noi per essere stato uno dei protagonisti di questo lungo periodo insomma di emergenza di averci dato dei consigli importanti per i nostri amici a quattro zampe che io voglio risollecitare assolutamente non abbandoniamoli ci hanno fatto molta compagnia e quindi meritano la nostra attenzione anche e soprattutto durante le vacanze grazie ad Antonio Uda per essere stato con noi grazie a voi buona serata alla prossima grazie anche a voi rimanete lì perché ci sono altri ospiti grazie a voi grazie a voi